Grazie per la visione! 6 anni. 6 anni. 6 anni. 7 anni. 7 anni. 7 anni. 8 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 anni. 9 anni. 9 anni. 10 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 anni. 11 anni. 10 anni. 11 anni. 11 anni. 11 anni. 12 anni. 12 anni. Ho i coltelli con le lame da 30 centimetri. Allora chi è che mi fa il verbale? Chi è che mi contesta il verbale? Chiedo scusa. Tutti qua. Ah tu, entri io.